Anticipazioni il segreto, sabato 25 maggio 2019. Maria fruga tra gli oggetti e i vestiti di Fernando quando qualcuno la interrompe bruscamente. Si tratta di Raimundo, suo nonno per fortuna, che la esorta a sbrigarsi prima del ritorno di Fernando. La Castagneda intanto trova indizi veramente inquietanti sul conto dell'uomo che dimostrano inequivocabilmente la sua pazzia. Tra essi spiccano dei bigliettini con frasi ripetute continuamente. Raimundo Adirato crede che sia giunto al momento di togliere la maschera a Fernando. Ha capito che è stato lui a far sequestrare Emilia e Alfonso e ritiene che bisogna affrontarlo prima che possa combinare altri guai. Lo farà non appena ritornerà dal suo viaggio a Madrid. Verso sera il Messia rincasa e ritrova Maria, Raimundo e Maurizio intenti ad aspettarlo. Elsa ha nuovamente dei fortissimi dolori al ventre e il dottor Zavaleta la rimprovera per la sua incoscienza. Antolina intanto contatta telefonicamente il Marchese di Laso. Cosa vuole da lui? Cosa sta tramando? Mattias rivela finalmente a Marcela il piano che sta portando avanti con l'aiuto di Isaac ed Elsa per smascherare Antolina. La locandiera è molto arrabbiata quando si rende conto di essere l'unica persona ad essere stata messa da parte. Ulieta fa di tutto per convincere la famiglia di Las Lagunas ad apporre le firme sui documenti per incastrare i molero. Grazie per la visione!